Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video rivelato alla V-Jump Quella del drago bianco occhi blu che non ha niente a che fare con il drago bianco occhi blu Giustamente, prima di iniziare, come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi Non so se non è il primo esempio, il gioco di un mondo di Yugi E non solo, perché fra poco riporteremo anche i Magic Perché è andato un bel po' che non lo portiamo, quindi è doveroso Mi sto influenzando molto bene E niente, detto questo io vi ringrazio e vediamo che cosa fa Allora, Spell Card, Soul Exchange Allora, immediatamente dopo che questo effetto sia risolto Il computer mi sta facendo gli aggiornamenti Quindi si apre robe strane, non ci fate caso Fate come se non aprisse niente Immediatamente dopo che questo effetto sia risolto Evochiamo tramite tributo un mostro E se lo facciamo non può essere tributato in questo turno Poi se lo facciamo possiamo tributare uno più mostri dell'oppo Uh, uh, anche se non li controlliamo noi Uh, 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 attenzione Tributiamo tre per fare il Barbaros? Assolutamente sì Se questa carta viene mandata al terreno al cimitero Atteniamo questo effetto L'avversario può applicare il primo effetto di questa carta Allora, allora, allora Sembrerebbe una ciofeca teoricamente Ma in realtà no Ovvio lo spazio per trovarla Eh, non c'è tantissimo Però, allora Vabbè, dico subito che Monarch potrebbe fare il panico Perché comunque tu tributi due dell'oppo Gli cali quello che gli vuoi calare Appena va al cimitero l'oppo neanche te la può riattivare Perché se tu evochi esattamente solo quel mostro E hai esattamente solo quel mostro sul terreno Non lo può tributare E quindi si attacca al cazzo Punto primo Punto primo Dovrebbe utilizzare l'evocazione normal comunque, no? Perché comunque non dice l'evocazione tributo in più Perché avevo letto dei commenti Mentre avevano presentato questa carta Che dicevano Eh, ma non usa l'evocazione normale Tipo, cosa? Non avevo letto l'effetto della carta ancora Cosa? Come non utilizza l'evocazione normale? Che cosa vuol dire? Perché qua non dice l'evocazione tributo in più Quindi non credo Penso che l'evocazione normale è tranquilla Poi Inflow Assolutamente Inflow l'anderess fa il panico Anche perché se usi shifter Questa mancava il cimitero Quindi Vi devo dire Vi devo dire Con tutte le evocazioni normali in più Che faceva inflow l'anderess Questa Potrebbe essere una carta molto interessante Anche perché gli puoi tributare Quanti mostri ti pare Non sei costretto a tributarne ne soltanto uno Se giochi appunto Come dicevo l'esempio stupido Il barbaros Comunque Tre credo glieli puoi tributare Oppure se giochi a divinità egizia Glieli tributare O comunque almeno due glieli levi Poi con fluga capirai Hai voglia a te Hai voglia a te Possiamo ovviamente attivarlo una volta per turno Però già che gli togliamo due mostri importanti Insomma io direi che è abbastanza forte come carta È come se avessi un kaiju che puoi Un golem di lava senza Un golem di lava senza che ti prendi l'inculata Una cosa finca è che in realtà potresti anche utilizzarla in deck Generici Nel senso se io gioco cash tira Gioco il feneri Io uso questa Io te la faccio a due tributi per evocarti normal cash tira Cioè Perché non dovrei far Perché non dovrei Faccio una normal di cash tira Poi magari se c'è un mazzo che non utilizza mai la normal È un motivo in più per farlo Quindi uso questa Norma di cash tira Ovviamente partendo secondo È molto probabile che se te la utilizzo E c'è il pericolo che ti levo i mostri Questa viene negata assolutamente Però in realtà nel potenziale C'è la vedo in realtà in mazzi for fun Perché effettivamente trovare lo spazio per questa qui E farti Tra virgolette Un meno uno se non risolve È abbastanza È abbastanza pesante Quindi magari nelle liste Più secondarie Che magari vanno a sfruttare meglio questa carta Anche non per forza mazzi tributo Come dicevo Perché se io ho un mazzo che fa tutte special E c'ho un livello 7 Livello 8 Che comunque se sta sul terreno Se c'ho il vanity Vanity ruler Io cacchio tu gioco e te ne ne avevo due Se io ho la possibilità di farlo Diciamo l'Appstar Goblin A3 potrebbe essere utile In questo senso Ho anche i mazzi che non utilizzano L'extra deck Però non mi ricordo se in Nemurelia Li posso bucare normalmente Tranquillamente Perché magari lo utilizzo in Nemurelia Gli tributo quelli dell'Op Calo quelli E via Quindi Secondo me delle cose interessanti Si potrebbero fare Non è una carta Mi sembro Ok Non è una carta Diciamo da Da meta competitivo Secondo me Però non fa neanche così schifo A leggere C'è potrebbe dire Uno potrebbe dire Mazza che schifo Che cacchio ci fai Ci sta Perché assolutamente ci sta Perché Però nel Se uno va a ragionare Bene 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 Potrebbe trovare Un suo utilizzo Ripeto Un utilizzo Secondo me Secondario Che anche perché Poi l'Op Ti potrebbe Riattivare l'effetto Però insomma Se tu c'hai soltanto Quel mostro E' un trucco Tra me di tributo E poi fai altro Insomma Non dovresti avere Nessun tipo di problema Quindi diciamo che Secondo me Zitto zitto Questo potrebbe essere Una carta Interessante In determinati In determinati Deck Anche perché Se Poi C'hai Magari Lo usi In trepere Questo Diventa un Prick Impressionante Perché se non c'hai Mostri da evocare Quindi Devi proprio Trovare una Conformazione Adatta Però Nel potenziale Secondo me C'è Quindi Detto questo ragazzi Fatemi sapere Cosa pensate Ovviamente Se fa schifo Questa carta Oppure no Secondo me Ripeto no In quale deck Secondo voi Potrebbe trovare Un utilizzo Adatto Noi come sempre Ci vediamo In un prossimo video E un saluto A tutti